ciao questo è un nuovo video che solito rifaccio sui film che riescono da mia recuperare visto che adesso come film anche se è uscito il 18 18 aprile di quest'anno come film che adesso magari lo si può magari lo si può trovare magari anche sui soliti piattaforme anche anche gratis come film essendo mai riuscito da quella da quella mai come si dice quella mai e quella mai decina di giorni dal cinema come stavo dicendo magari lo si può trovare sui soliti piattaforme anche gratis e nello stesso momento in certi magari in certi film ho visto che lo stanno ancora lo stanno magari ancora mettendo in certi sale del cinema come film e li volevo magari dedicare questo video a questo film che si chiama back to black che è biografico come il film che più che altro magari parla della della storia di amy winehouse di questa cantante che anche si dura mai due ore di film però questi film e biografici ho visto che magari su biografici magari su su certi mai cantanti ho visto che possono essere magari anche interessanti su certe cose che l'ho voluto tipo andamelo a recuperare che come paesi di produzione tra prendere mai due paesi tra il regno unito e l'america che la lingua originale e inglese che come regista di questo film è questo sema taylor johnson che essendo mai oltre magari essere il solito male film e biografico essendo che parla magari di questa cantante può essere magari anche musicale dopo essendo ma conoscendo magari la vita anche di evi winehouse su certi punti di vista ma e poi può essere magari un po drammatico che è uscito il che come film ecco la sua data così dice la sua data ufficiale che è uscita cinema è stato giovedì 18 aprile del 2024 che che anche si dura quelle due ore di film come si dice magari ci poteva magari anche stare a chi piace mai la musica magari sicuramente mai è un film da andarsi a recuperare che come film è stato anche distribuito dalla universa universal pixel che magari come al solito magari vi lascio sempre sotto in sotto in descrizione morai il cast degli attori che hanno mai partecipato e questi riescono magari qualche altra informazione in più trovati sempre sotto in descrizione che che già da come si dice dalla sua uscita cinema ho visto che anche nelle sale cine cinematografiche ha già incassato molti soldi creato parla proprio su di emi winehouse questa cantante britannica scomparsa prematuramente morai all'età di 27 anni già nel quei 13 anni fa che è morta nel 2011 che aveva quei 27 anni che più che altro magari come si dice che la trama proprio dei film che parla che mai perché vogliono che la gente mai senta senta la sua voce e dimentichi i suoi problemi 35 minuti e ma voglio tipo essere ricordata più che altro per la sua voce per i concerti magari che che ha fatto che più che altro mai e volevano far vedere più che altro vedere ma è proprio la persona che ha proprio emi winehouse che così mai dicono le due uniche e voci di proprio back to black che questo film sembra che che vuole magari far parte con i demoni magari interiori della proprio perché poter avere proprio questa cantante qualche è morta 27 anni è morta nel 2011 all'età di 27 anni che è nata e cresciuta a londra da questa famiglia di origini ebraiche con i genitori divorziati che proprio emi winehouse è una giovane donna libera con un amore magari spiccato per la musica jazz e gusto per magari l'imprecazione che il suo maestile retro e direttamente mai ispirato alla dorata nonna paterna cinzia ex cantante professionista che la sua icona di stile che la sua icona in tutto che è mia voce più che altro questa voce potente estinzione ed è cresciuto ascoltando musica afro americana e se non si è se non si magari conoscessero mai le sue marai fattezza e marai potrebbe tranquillamente passare per una cantante black ma corpo da uccilino tempo tempo amare da leonesa firma marai il suo primo contratto a 18 anni con con già le idee molto cari sul concetto della presenza scenica ma nessuno sta sa tenere le testa e nessuno uomo sta saranno starle vicino come lei vorrebbe e lo dica ma in stranger temi uno dei brani di frank il suo album di debutto che arriva tredicesimo in classifica nel regno unito che tutto cambia quando al the good mix di canden entra questo black fil fil del civile tossicomone che la di seduce e mi mando leader of the park delle san grillesse ed è magari colpo di fulmine in idea da lima e inizia magari questa relazione devastante per entra entrambi che più che altro non è la trama del di questo film e a questa qualche magari vi lascio magari qualche qualche altra informazione magari in più così dice la trovate ma lei sotto io in descrizione ma è assieme a maria al cast al cast degli attori che hanno partecipato assieme a maria al videotrailer proprio del film che più che altro ma è la trama di questo film biografico su emi winehouse e questa qua sulla storia magari della sua vita fino 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 finché è stata nel 2011 che nell'età maria di 27 anni e mo è proprio morta e niente quello che potevo maria di e su questo film e morai l'ho già letta che al massimo trovate come ho detto magari qualche informazione magari in più sotto in descrizione e niente per adesso vi saluto e ci vediamo sicuramente morai più avanti con i miei soliti video che porto magari sul mio canale e niente vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao